Vuoi sapere cosa sono le azioni GROW? Bene, te lo dico in due minuti. Come ti ho già detto, le azioni GROW sono l'alter ego delle azioni VALUE, non necessariamente il demone e l'acqua santa, ma comunque rappresentano due filosofie di investimento diverse. Se da un'azione VALUE ci si aspetta utili costanti nel tempo e una minore oscillazione del prezzo, per quanto riguarda le azioni GROW, invece, ci si concentra maggiormente sul prezzo e sulla sua crescita sulla base degli utili futuri. In genere le azioni GROW appartengono a quei settori in sviluppo, come per esempio la tecnologia, oppure la robotica, l'intelligenza artificiale, ma anche quei settori rivolti al cambiamento del comportamento dei consumatori, come le energie rinnovabili. Ovviamente la tipologia dell'investimento coinvolge il risparmiatore, che deve conoscere il settore per valutare attentamente quale sarà l'azione leader nel futuro di quel settore, perché molte spariranno nonostante la crescita del settore stesso. Ecco perché si consiglia di approcciare l'investimento con la diversificazione. Ti faccio un esempio, quando nel 2000 internet è diventato di uso comune, era chiaro che il futuro sarebbe stato il motore di ricerca per navigare nella rete, ma la maggior parte di quei motori di ricerca, come Alta Vista, Excite o Yahoo, sono spariti quando è arrivato Google. Lo stesso è stato per Motorola o Nokia, che erano leader della telefonia, ma sono spariti con gli smartphone. Per i titoli Gros basta poco, una scelta sbagliata, un nuovo competitor e sparisci dal mercato.